ciao oggi faremo la sfida delle verticali come vedete siamo rientrate quasi tutto delle vacanze e debora ancora assente perché ancora in vacanza pronte manca anche claudia greta giusto ok quindi quelle che sono assenti e perché sono in vacanza adesso andiamo in verticale potete camminare ma non potete scendere vediamo chi è la campionessa di oggi delle verticali via cercate di battere ma per favore la bea è scesa la eva è scesa a 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 ai franci resisti francia e rosa sono scese fede emma e mina kate michi emma e giadi fede a a a a a a e c a a Emma e Mina sono scese Giadi Emma Kate Giadi e Michi scese rimangono Emma e Kate Dai 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 Vince Emma Brava Kate Ciao